Diario di una schiappa di Jeff Kenny E non c'è solo Babbo Natale di cui mi devo preoccupare. L'anno scorso, mentre sistemava dei vecchi scatoloni, mamma ha trovato un pupazzo di quando era piccola. Ha detto che è un aiutante di Babbo Natale e che deve guardare come si comportano i bambini e poi riferirlo a Babbo Natale al Polo Nord.